Sì, ma stai sentito. la protezione è il capo il capo può portarsi via tutte le cose se chiamo il capo nessuno può entrare nella mia mente o comunque dentro di me io non so se qualcuno può fare qualcosa che tu non vuoi so solo che il capo può fare qualsiasi cosa può portare via qualsiasi cosa se vuoi che qualcosa venga portato via e fanno ci c'è con il capo sì perché sono stata chiusa con questo chakra del cuore perché non ho sentito provato l'amore per tanto tempo per cui è Ica la vita o la morte ciò che deve morire muore è l'altro lato dello specchio per cui il cuore adesso può aprirsi però io ho la stessa sensazione sua cioè nell'ultimo spazio io ho male a questa parte del cuore ho chiuso la gola cioè in questo momento lo sto molto bene è anche io ho la pressione è proprio la gola che usa so you can sit if you wish yeah so see if the Australian Aborigines want nice fresh kangaroo for their lunch a new family is like a kangaroo se un aborigine australiano desidera mangiare un canguro per pranzo e far questo movimento così come degli orecchie di kangaroo e entrano proprio dentro la coscienza del kangaroo e quel kangaroo è lì che guarda un altro kangaroo so they walk riding around the kangaroo pick up the most delicious one and cook it for dinner per cui vanno proprio in mezzo ai kangaroo si scelgono quello più delizioso e lo cucinano per cena ma persone civili non potrebbero diventare l'animale e poi mangiarlo deve trovarsi già impacchettato nel supermercato sì non partecipo nella morte è solo il fatto che vi piacciono le salsicce sì per cui quando c'è questa separazione possono avvenire dei sintomi di questo genere quando viene chiamato Ikka no perché in un primo momento c'era tutta una sensazione di leggerezza e quindi di fluire con l'universo in effetti il mio corpo tracciava un otto poi invece nell'ultima parte ho sentito questa pressione di cuore se molte cose si sveglieranno vive e lasciate invece io ho cominciato con un senso di stordimento leggero ho cominciato a muovermi e poi sono arrivato a un punto di ubriacatura totale e mi sentivo come se fosse una foglia portata dal vento ma nello stesso tempo ero fuori dalla foglia e la vedevo e ho percepito chiaramente che anche la foglia che mi ha portata dal vento non è una cosa casuale ma rispetto a delle regole precise quindi c'è un ordine in tutto c'è una cosa che mi senso di dire che probabilmente non c'entra niente non lo so questi esercizi qui li abbiamo già fatto anche il prossimo all'altro karma io oggi sto capendo è per quello che sei qui oggi Sì, in Nigeria dicono che anche dall'età di sei a quella di sessanta anni per poter capire questo. Per cui se impari molto di più il secondo giorno che non il primo, hai fatto comunque tantissimo, tanti passi in poco tempo. E se è al posto giusto? E se è al posto giusto. Ok, well, let's take the foundation of four. So, we have Uttura e Uretti So, Uttura, of course, is popular with Shingo. Ovviamente Uttura è molto popolare con Shingo. Next, for those who know him, call Uttura love. Per quelli che conoscono molti chiamano Uttura amore. Perché per lui dedicarsi a una causa è amore. Se io dovesse chiamare uno di questi amore, io sceglierei Uttura. Sì, per poi due persone che sperimentano la stessa energia, lo stesso Uttura, ma chiamano poi in termini diversi. E poi combattere una guerra, il nome della religione sarebbe Uttura Maggi, cioè Uttura fuori e dentro. Uttura è un'energia molto sacra. E uno la potrebbe sperimentare entrando in una chiesa, per esempio. Se togli l'etichetta, cioè non importa di chi appartiene alla chiesa. Se è un tempio buddista, quello di togliere il Buddha, se è una chiesa cattolica, quella di togliere Gesù. Eh, sto parlando di quello spazio, quello è Uttura. Puoi anche sentire ciò dentro una grande caverna nella natura. Puoi anche sentire ciò dentro una grande caverna nella natura. Puoi anche sentire ciò dentro di un piacere. Grazie a tutti.